Il giudice Pietro Marino, abbiamo la sfilata delle coppie con una coppia di Saluki, Seter Gordon, pastore australiano, cane da pastore scozzese a pelo lungo, piccolo levriero italiano e Welsh Corgi Pembroke. Per cortesia i gruppi d'allevamento nel pre-ring, gruppi d'allevamento che saranno giudicati dal giudice Gianni Fulgenzi. Gruppi d'allevamento nel pre-ring all'esame all'attenzione del giudice Gianni Fulgenzi. Grazie a tutti. La coppia di pastore australiani. E' ora il turno della coppia di pastori scozzesi a pelo lungo. E poi la volta della penultima coppia a sfilare la coppia di piccoli levrieri italiani. E concludiamo la sfilata con la coppia di Welsh Corgi Pembroke. I gruppi d'allevamento per cortesia nel pre-ring all'attenzione del giudice Gianni Fulgenzi. I gruppi d'allevamento per cortesia del giudice Gianni Fulgenzi. I gruppi d'all'attenzione del giudice Gianni Fulgenzi. I gruppi d'allevamento per cortesia del giudice Gianni Fulgenzi. per tutte le coppie li applaudiamo tutti insieme prima di farli salire sul podio un bell'applauso coppie d'allevamento terzo posto per il Welsh Corgi Pembroke piazza d'onore per il pastore scozzese a Pellolungo e vince questo raggruppamento delle coppie la coppia aspettiamo che finisca di metterli a posto di Saluki andiamo.